Le malattie neurologiche e le malattie mentali colpiscono oltre la metà degli italiani e con l'invecchiamento della popolazione sono destinate ad aumentare. Ne parliamo con il professor Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, ai margini della presentazione della strategia italiana per la salute del cervello lanciata dalla SIN, la Società Italiana di Neurologia. Professore, quali sono le malattie neurologiche e mentali che colpiscono maggiormente le persone anziane? Sicuramente l'ictus, che va peraltro considerata quasi più malattia cardiovascolare, tutti i tipi di decadimento cognitivo, primo fra tutti la malattia di Alzheimer e a seguire la malattia di Parkinson. Questi sono i grandi capitoli che coinvolgono l'anziano ovviamente con tante altre malattie, ma direi che queste rappresentano l'80% delle condizioni neurologiche che affliggono il paziente anziano. Perché oggi sono così diffuse e a che punto sono le cure? Intanto sono diffuse perché, fra virgolette, fortunatamente sono tanti gli anziani, quindi una malattia che aumenta con l'età poi si manifesta di più se abbiamo tanti anziani. Questo non vuole assolutamente dire che tutti gli anziani sono affetti da malattie neurologiche o che la vecchiaia sia una malattia neurologica, fra virgolette, perché questo purtroppo è quello che viene vissuto. Invece noi abbiamo l'80% dei nostri anziani e dei grandi anziani che stanno molto bene. Però è chiaro che se una malattia aumenta con l'aumentare dell'età e noi dobbiamo aspettarci, così come la fragilità e la disabilità, un numero maggiore di pazienti che vanno in conto a decadimento cognitivo. In particolare le malattie neurologiche degenerative si manifestano quando l'età è molto avanzata, quindi nell'ultra 80enne, l'ultra 85enne e l'ultra 90enne. Abbiamo sempre più ultra 90enne e qui davvero il rischio diventa molto alto, perché il 65-70enne non è anziano. Quindi un paziente che oggi manifesta un decadimento cognitivo a 65 anni si dice, accidenti, c'è un giovane con decadimento cognitivo. Quindi ecco, proprio questo per stigmatizzare che la longevità non è malattia. Perché c'è bisogno di una strategia italiana per la salute del cervello e come si declinerà nella geriatria? Perché abbiamo bisogno di prevenzione, tanta prevenzione. Noi sappiamo che, per esempio, la malattia di Alzheimer vede come fattori di rischio anche tutti i fattori di rischio cardiocardiovascolari, quindi l'ipertensione arteriosa, la sedentarietà, il sovrappeso, il colestero, il ripercorso, l'anormia. Qui serve prevenzione. Oltre a questo la prevenzione della malattia grazie ad azioni sociali. Le malattie neurologiche vedono come fattori di rischio la depressione, ma anche la solitudine. La solitudine porta a una riduzione della funzione cerebrale. Se noi riusciamo ad evitare la solitudine, a lavorare contro la solitudine, ecco che riduciamo anche l'incidenza di decadimento cognitivo. Quindi molto importante. Io abbiamo appena fondato, mi dice dei geriatri, i geriatri hanno appena fondato insieme ai veterinari un'associazione che si chiama Veteris, che vede l'unione di geriatri veterinari per interventi assistiti con gli animali, per gli animali da compagnia, per gli anziani soli. Un animale da compagnia quando rimani vedo ti fa rimanere attivo. La motivazione è la base dell'azione. Se la mattina non hai una motivazione, sei solo, il tuo cervello invecchia. Questo è l'approccio geriatrico nei confronti delle malattie neurologiche, al di là ovviamente della scienza di base e della necessità di studiare i meccanismi alla base poi dello sviluppo di queste gravi e purtroppo ad oggi poco curabili malattie. Come collaborerete con SIN per la realizzazione del piano? Abbiamo creato un gruppo di lavoro che prevede la partecipazione di un neurologi della società italiana di neurologia e geriatria proprio per mettere in atto strategie preventive di ricerca nell'ambito delle malattie neurologiche del paziente anziano.